Usi abitualmente Google Chrome? Beh, e allora sappi che sei in pericolo. Perché? Te lo spiego subito. Ebbene sì, a quanto pare esiste una nuova minaccia che si chiama Sync Jacking, che è estremamente efficace e consente a dei malintenzionati di prendere il controllo non solo del nostro Google Chrome, ma di tutto quanto il dispositivo, rubandoci password e da informazioni sensibili. Ma come funziona e soprattutto come possiamo proteggerci? Ebbene sì, contrarre questo malware è in realtà estremamente semplice, perché basta scaricare per errore un'estensione di Google Chrome infetta direttamente dal Chrome Web Store, perché a quanto pare questi malintenzionati sono riusciti a trovare un metodo per infettare delle estensioni senza che il Chrome Web Store abbia modo di accorgersene. Dovrai quindi stare estremamente attento che non ti compaia un pop-up che chiede di attivare la sincronizzazione del browser. Se per caso infatti dovessi cadere in questo tranello, tutti quanti i tuoi dati personali e quindi username, password, cookies, cronologia, preferiti e tutto quello che ti può venire in mente cadrebbero nelle mani di questi cybercriminali. Ma non basta, perché a questo punto la seconda parte del tranello prevede che ti venga inviato un falso invito di Zoom che ti trasporterebbe ad una pagina altrettanto fasulla di questo servizio, dove riceveresti una richiesta di installare un finto aggiornamento che consentirebbe a questi malintenzionati di prendere il controllo completo della tua macchina installando ulteriori estensioni infette. Quindi massima attenzione, se dovessi ricevere qualcuno di questi campanelli d'allarme, ferma tutto e annulla l'operazione che stavi facendo. Ma soprattutto fai girare questo video e avvisa tutti quanti i tuoi amici, parenti e colleghi. Alla prossima!